Nel corso dell'ultimo Consiglio Comunale a Praia si è discusso anche dei rapporti che il Comune intrattiene con delle cooperative a cui ha affidato i servizi e si è parlato anche dei vecchi rapporti con i dipendenti collaboratori Cocopro e Cococò del Comune. Secondo il consigliere di opposizione Antonio Pratico, i rappresentanti della Giunta hanno ribadito più volte concetti falsi o errati. Sindaco, ha parlato delle cooperative però non si è reso conto che cosa c'è scritto nella Convenzione. Io le riporto le parole testuali della Convenzione che dice che alla cooperativa viene concesso l'uso dei mezzi e che l'amministrazione si impegna anche alla loro manutenzione e che al personale deve essere garantita l'applicazione di tutte le norme vigenti in tema di rapporto di lavoro, assicurazione, sicurezza del lavoro e altre norme. applicabili. Al servizio iniziato la cooperativa deve comunicare i nominativi dei dipendenti e la posizione assicurativa. Il responsabile del servizio potrà effettuare i relativi controlli atti a verificare la correttezza del servizio e delle clausole contrattuali. Lei afferma che l'obbligo per l'ente è quello di accertarsi che le cooperative alle quali vi affidate sono quelle di tipo B e questo vi avviene semplicemente controllando che siano iscritte ad apposito albo e che il Comune ha solo l'obbligo di controllare che il servizio svolto dalla cooperativa sia efficiente. Perciò vada a rileggersi quello che è scritto in convenzione e controlli le norme contrattuali. L'altro aspetto invece è quello che riguarda i precedenti rapporti di lavoro che l'amministrazione comunale intratteneva con Cococò e Cocopro. Sindaco, lei ha affermato ancora falsamente che i Cocopro non godevano di copertura assicurativa. Le sue affermazioni contengono due falsità. La prima, mai la passata amministrazione ha usato lavoratori con contratto Cocopro, ma ha utilizzato contratti Cococò, cosa ben diversa. I Cococò sono contratti di collaborazione continuativa. La seconda, gli operai Cococò erano regolarmente assicurati e contemporaneamente usufruivano degli assegni familiari al loro carico. Altro che non erano assicurati. A quell'epoca vi erano lavoratori che partivano da 791 euro, da 942, per arrivare a 664 e 672. Chiedete a questi lavoratori, quando percepiscono con l'amministrazione Lomonaco, 500 o meno di euro. Inoltre, la precisazione che l'amministrazione ha fatta sul frazionamento della spesa in più affidamenti per gli stessi servizi, si trattava, afferma il sindaco, si trattava di una forma di spesa controllata per evitare spreche e previsione di impegni e consomme ingente prima che si manifesta la necessità. E' così, totalmente effimera questa risposta ed è priva di fondamenti giuridici, atteso che la stessa è già consolidata negli anni ed ammonda per ogni anno a circa 350 mila euro all'anno. E' la previsione di spesa di un servizio primario, come quello in questione, viene effettuata per l'intero arco dell'anno. Procedere, come ha fatto l'amministrazione, è totalmente in violazione delle leggi comunitarie nazionali e regionali. Pertanto, su questo punto, invito le autorità ad accertare sia le eventuali irregolarità per fare chiarezza sulle affermazioni del sindaco e sia sui comportamenti della giunta comunale.